Pubblicità! Come a fare? Queste pubblicità pensate da autori nazionali, ma come sarebbero qualora fossero state pensate da autori siciliani? Ma prima, l'originale! Salame Napoli, salame ungherese, salame Milano, se vuoi la qualità, scegli Negroni. Le stelle sono tante, milioni di milioni, ma quella di Negroni vuol dire qualità. Sei Negroni? Si sente. Ragazzi? Ci mancherà. Ma stai scherzando, Tony, dai. Siamo in fascia ancora protetta. Ma dai, dai. Puliti, puliti. Mi raccomando. Ma che fa scherzo. In Sicilia. Che ti piace, salame. Salame, salame. Quale vuoi, chi dù Napoli, ungherese o Milano? Secondo me tu vuoi salame, Runegroni? No, Runegroni! Salami cinnettanti, milioni di milioni, ma chi dù Runegroni? Vuol dire quantità... No! Sei Negroni? Usi Nei! No, 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 no.